Dobbiamo mettere la nostra vita in pausa per essere pronti a riprendercela quando tutto sarà finito. Consideriamolo un congedo dal lavoro straordinario. Mettiamo a frutto le lunghe giornate trascorse in casa, dedicandoci a passione che il tempo non ci consente di coltivare. Leggiamo, guardiamo film o altri programmi in televisione, teniamoci informati. Vorrei rivolgere un pensiero particolare agli anziani e agli ammalati, a tutte le persone che non hanno parenti che li accudiscono. Noi ci siamo, la città è vicina a voi. Ho grande fiducia nella nostra forza d'animo, nella resilienza, nella capacità che tutti noi abbiamo di fronteggiare le avversità. Siamo gente di montagna, siamo abituati al sacrificio e da rimboccarci le maniche senza lamentarci. In questa situazione noi diamo il meglio. Sarà così anche contro il coronavirus. Se non sottovaluteremo la situazione, se assumeremo i comportamenti corretti, se rispetteremo le regole, impegnandoci tutti insieme, ne usciremo, ne sono sicuro. Con questa convinzione affrontiamo la situazione. Tornerà il tempo della gioia, dello svago. Questo però è il tempo della responsabilità. Conto su di voi.